Eccoci qua, allora vi saluto solo con una parola, magia, la magia di un sipario rosso nuovo, l'inaugurazione del piccolo teatro comico che è una corso di formazione dal 1988 e ripartono i nuovi corsi, la stagione 2024-2025, corsi professionali ma anche per direttanti per chi vuole vivere la magia del teatro che ci fa tanto bene all'anima e poi la cosa bella che questi corsi danno una prospettiva futura anche di diventare in compagnia di vivere insieme questo splendore, questo sipario rosso, quanta emozione, vi aspettiamo lezione di prova il 7 di ottobre e un lunedì alle ore 20, vi aspettiamo per condividere, viva il teatro e io torno dietro le quinte. Grazie a tutti! Grazie a tutti!